Vittoria che ci hanno svitato con tanta affettuosità e tanta generosità per il secondo anno consecutivo ma la devo prendere perché sta lì eccoci qua ecco voi grazie, grazie a tutti i ragazzi che lavorano con noi che sono sempre gentilissimi e affettuosissimi Motoclub Alex, grazie non vedo Alex eccolo perché sono d'altra parte però per mia colpa, mia grandissima colpa è rimasta a casa no no, questa avranno la loro, grazie, grazie mille e poi ancora un attimo soltanto questi ragazzi bravissimi Lorenzo venite Lorenzo, amico di Marta da molti anni con il suo gruppo, gli Angole grazie ragazzi per essere venuti qua stasera adesso restate anche voi così generosi grazie di tutto adesso loro faranno un bel po' di musica speriamo che piaccia a tutti ma sono sicura perché sono bravissimi davvero molto bravi sia come cantautori che come cover ok e per finire con la mia medica e per finire con lei il signor Roberto Di Rita qui vicino a me perché il signor Roberto Di Rita che si è defilato fino adesso è in realtà in realtà